Ovviamente tutto si tiene, ma la nostra decisione è una decisione sul fallimento della politica economica di Enrico Letta che è sotto gli occhi di tutti. Il governo ad oggi non ha ancora presentato il maxi emendamento, ha scritto una pessima legge di stabilità criticata da tutti a partire dall'Unione Europea. La scritta, la riscritta, la buttata nel cestino è ancora in grandi difficoltà nel portare avanti questo atto fondamentale della vita di un governo. Le riforme istituzionali divacchiano e la pacificazione per quello che succederà domani è stata evidentemente solo una speranza, un miraggio.